Siamo qui con il mister Ciliverge Raffaele Zucchi, mister sconfitta da sapore amaro, perché comunque avevamo quasi rimontato verso la fine, abbiamo spinto per trovare il gol ma non ci siamo riusciti. Pareri sulla partita? No, la partita è un vettore aumentato dal Capinello, l'abbiamo riaperta come un episodio ma la sensazione era quella proprio che non riuscissimo a trovare il gioco e le occasioni per poterla riaprire, quindi sconfitta meritata, come ho già detto approcciata male e noi quando dobbiamo fare il salto di qualità dal punto di vista mentale non c'è niente da fare per lavorare su questo, due mesi che cerco di lavorare su questo e oggi sono molto dolce. Siamo qui con il Capitano del Ciliverge, Marco Volotti. Marco, una partita difficile, forse ha approcciato anche male, come detto anche il mister in precedenza. Cosa è mancato al Ciliverge oggi? Sì, è stata una partita difficile, ha approcciato male e purtroppo non abbiamo ribattuto la loro voglia, la loro cattiveria, quindi dobbiamo un attimo in settimana vedere e analizzare questa partita per ripartire perché oggi penso abbia funzionato poco o niente di quello che non volevamo fare.